Eleganti, sinuose ma di grande potenza espressiva sono le creazioni della scultrice friolana Elena Faleschini che da sabato sono esposte nella suggestiva Sala delle Grasce in occasione della mostra oltre il bersaglio curata da Enea Chersicola. La personale dell'artista triestina punta sui temi dell'Arco degli Arcieri, figure in cui viene incanalata la rete delle sue stesse emozioni. Le 15 opere in esposizione sono principalmente amazzoni, divinità e combattenti riconducibili alla metodologia greca e latina, soggetti prediletti per narrare una gestualità fatta di forza e armonie compositive. La scelta di miti eroici come soggetti principali è legata alla volontà di esprimere con la massima intensità possibile la potenza del gesto e le donne guerriere che impugnano con fermezza gli archi diventando loro le rappresentazioni dell'elemento arcuato. L'Arco assume un'attenzione all'infinito che, coniugato con la forza del mito, scrive il curatore, trascende le nozioni di spazio e tempo, proiettandosi verso il bersaglio. Il cerchio racchiude l'energia del respiro, la freccia è la direzione e la consapovolezza è la meta. La mostra, promossa dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con Tivarnella Art Consulting, resterà aperta al pubblico tutti i giorni fino al 2 ottobre con orario 10, 12.30 e 17.20.